La fuga rocambolesca del boss dell'Andrangheta Rocco Morabito dall'ex carcere centrale di Montevideo in Uruguay insieme ad altri tre detenuti fa infuriare le autorità italiane. Morabito, ricercato dal 1994 in vari paesi del Sud America, stava aspettando l'estradizione in Italia per traffico di droga internazionale. Viveva in Uruguay sotto falsa identità ed era stato arrestato nel settembre del 2017 dalle autorità di polizia dell'Uruguay dopo mesi di intense attività di cooperazione internazionale ed intelligence. La fuga, ha reso noto il ministero dell'interno uruguaiano, è avvenuta attraverso il tetto dell'edificio passando da un buco. Le autorità di polizia locali hanno emesso un mandato d'arresto estendendo le ricerche degli evasi a livello nazionale. Durissima la presa di posizione del ministro dell'interno Salvini e del ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi, che hanno definito la fuga di Morabito sconcertante e grave e hanno chiesto spiegazioni immediate al governo di Montevideo. Grazie a tutti.